arri buon pomeriggio ragazzi stavo facendo il video e puntualmente qualcuno mi chiama va bene va bene insomma non è un problema rifaccio il video vabbè così allora prima di iniziare il video andate nel canale di andrea che lascerò in descrizione il suo e quelli degli altri che erano in live con me nel canale di andrea e andate iscrivervi non vi costa nulla lasciate un like commentate se volete e ditemi un po come come pensate cioè come sono come tifosi come ragionano e quant'altro ok mi raccomando tanto non costa nulla ragazzi cioè visto che vi iscrivete a canali che sinceramente parliamoci chiaro più che cazzate non dicono magari un canale un po più serio con persone secondo me molto molto brave a parlare dell'inter magari un girettino me lo farei no che dite va bene ragazzi detto questo ma parliamo un attimo del del mercato dell'inter e di una certa persona che poi farò il nome ma non per fare dissing ma visto che puntualmente ha in bocca la nostra squadra ok allora mercato dell'inter allora io adesso come adesso vedo un mercato da otto e mezzo voi mitesi hai comprato senza barella ok ma calcolate che senza barella sono due ragazzi molto giovani che possono crescere nel futuro ok anche non dico io l'ha detto anche roberto mancini e roberto mancini ne sa più di me visto che è l'allenatore della nazionale è uno che di giovani promettini gli ha sempre presi a volontà e difficilmente sbaglia e insomma visto che mancini ha detto così mi voglio fidare ok poi abbiamo preso l'azzaro che è un esterno che sa saltare l'uomo è vero queste partite amichevole ha giocato poco un po per l'infortunio un po per per altro non si è visto il l'azzaro quello vero però ragazzi vedete che in campionato farà molto bene poi sensi sensi ragazzi cioè ha fatto un delle partite amichevoli che alzo le mani grazie milan ok che ci hai lasciato sensi veramente è un giocatore che è proprio e la mente cioè sa fare i passaggi giusti sa far gol infatti ha fatto un gol pazzesco contro tottenham se non mi sbaglio che ha fatto una fucilata che è andata al no no non con tottenham con nella prima amichevole con lugano mi pare se non erro comunque ha fatto un'ottima delle ottime amichevoli sono contento un acquisto che serviva al centrocampo dell'inter un po di fantasia un po di piedi buoni al centrocampo visto che con tutto rispetto borca valero non non ce la fa più nel senso secondo il mio punto di vista magari a fine se va a firenze magari qualcosina di meglio può fare ma adesso come adesso in questa inter borca valero non serve ok come non serve gagliardini come non serve joe mario e quant'altro ok poi agume non lo posso non lo posso citare perché comunque non l'ho visto si ha fatto quei piccoli manciate di i minuti ma è ancora presto per giudicarlo insomma a quanto ho capito l'hanno preso per la primavera poi mi mi sbaglierò ma così mi hanno detto poiché che abbiamo preso a godin godin top ok anche se come ha detto fabio bergomi i giocatori del dell'atletico madrid sono un po fragilini e infatti è arrivato ha fatto qualche partita e poi si è infortunato però meglio adesso che durante la stagione diciamo è che almeno durante la stagione puoi recuperare la forma e essere il pilastro il terzo pilastro di una difesa molto 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 forte perché con screen e devrai ragazzi ci mette anche godin capite che è una difesa con i contropalle ok a differenza di qualcuno nel milan ok che adesso arriverò poi ovviamente c'è l'acquisto top dei top dei super top e lukaku c'è ragazzi lukaku è la forza della natura cioè io l'ho detto questo qua è un giocatore che farà la differenza nell'attacco nell'azurro ok cioè lukaku è quella quella giocatore che ti apre gli spazi perché enorme è un gigante ok per non dire altro è un gigante infatti io non voglio non voglio proprio vedere a inter lecce perché vi spiego anche perché uno l'acquisto e si sa due voglio vedere le difese quelle lecce con le del cagliari eccetera 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 ok vedere un po come come si comportano con lukaku visto che con i cardi lo fermavano tutti ok lo fermavo anch'io con la pancia ok poi vedere lukaku insomma c'è una piccola differenza di grandezza e di altezza ok e poi i suoi gol li farà fidatevi che li farà magari non farà 50 gol ma comunque i suoi gol io credo che all'incirca vi dirò andrà minimo 20 gol minimo poi ci può stare che magari ne fa 15 però saranno tutti i gol pesanti a differenza di qualcuno che aveva la maglia numero 9 ok detto chiudo parentesi poi un altro acquisto che sono contento però insomma se arrivavo a geco preferivo insomma che è alexis sanchez sanchez è in arrivo a quanto mi hanno detto domani farà le visite mediche a milano e poi fermerà il contratto con l'inter di non mi ricordo quanti anni adesso non so se tre o quattro anni non me lo ricordo e sanchez si conosce ok perché chi l'ha guardato ai tempi dell'udinese era un fenomeno cioè ragazzi un giocatore del genere era da prendere l'inter ha provato a prenderlo ma non ci è riuscito come non ci è riuscito all'epoca per di bala che sapete cosa ne penso di di bala insomma e poi gli altri giocatori presi vi dico la verità allora l'azzaro preso barella sensi l'ho detto a biraghi biraghi dovrebbe arrivare anche lui con cioè insieme a sanchez ho avuto un momento di lapsus infatti pensavo che che avevano preso biraghi biraghi ritorna a casa visto che è stato uno giocatore dell'inter nel settore giovanile e lui ovviamente spinge per tornare a casa cioè alla pinettina visto che è nato e cresciuto nel settore dell'inter perciò gli farebbe piacere il vestire la maglia nero azzurra della prima squadra ok a firenze ha fatto molto bene è uno che sa finalmente crossare a differenza di dalbert che ragazzi dalbert è un suicidio io mi auguro che lo impacchettano e romano in francia con solo con il biglietto di andata e non ritorno la stessa cosa di gioco mario tutti lo voglio tutto lo voglio ma nessuno lo piglia speriamo che entro il 2 settembre non si vede più ok borca valero vedremo insomma se anche lui farà spazio per il centrocampo dell'inter perché comunque sono tutti i giocatori che il conte non serve sapete i centrocampisti che vorrebbe conte vidal e milico e savage di vidal io ragazzi ditemi voi magari mi sbaglio io ho letto una notizia su un articolo che non mi ricordo il nome ma non mi interessa di di vidal che potrebbe rimanere a a barcellona ha rifiutato l'offerta dell'inter ma io ho chiesto in giro e mi hanno detto che non è così nel senso che nell'ultima amichevole o partita non mi ricordo se è iniziato il campionato spagnolo vidal non ha giocato ok e non è stato neanche convocato perciò questo sono tutti i segnali che vidal potrebbe venire da noi in prestito la questione milinkovic allora io da quello che so c'è una trattativa molto avanzata per milinkovic e non dico che viene al cento per cento cioè prendete le parole con le pinze però c'è una buona possibilità che milinkovic potrebbe vestire nel azzurro quest'anno vedremo insomma mancano ancora 12 giorni al mercato perciò può succedere di tutto ok ecco come è successo la questione di geco il geco è rimasto a roma abbiamo preso sanchez praticamente a zero più o meno perché se andate a vedere tutti gli incastri è come per dire il il marcio di lunaid detto toh tienitelo perché hai non serve più ok detto questo e niente ragazzi a mi stavo dimenticando soprattutto allora caro luca adesso non voglio fare di sì con te perché sei un amico sei divertente e insomma sei il la stima che ho per te ok però puntualmente ma perché quando parli del milan devi mettere in mezzo l'inter cosa cosa ha fatto l'inter per odiarla così ok allora tu vai a dire che la rosa dell'inter come dire nel tuo video hai detto che è dal settimo posto ok se la tua rosa è dal settimo posto cioè se la nostra rosa è dal settimo posto ok la tua che cos'è cioè fammi capire perché voi avete preso cristiano ronaldo modric bappé eccetera eccetera non mi pare non mi pare luca voi siete secondo il mio punto di vista lottate con torino atalanta laz e roma queste di più no poi ho a meno che farete una stagione da quarto posto buon per voi ma sinceramente io non vedo voi al quarto posto ma vedo più sinceramente una roma o una roma la lazio non lo so perché la lazio è una scuola discontinua però per me il campionato se si giocano inter di windows napoli poi zona champions league atalanta roma roma lazio e forse voi forse perché attenzione alla fiorentina che sta prendendo anche liberi attenzione la fiorentina ragazzi potrebbe essere un una squadra giogli ok attenzione e questo ti volevo dire ma cioè ti rendi conto di quello che dici luca io non lo so bo vedo che te rosichi come un castoro incazzato cioè ogni albero che becchi lo sgagni perché non è possibile è così lukaku avevi detto che non veniva alexis sanchez sei rosicando perciò vedi vedi un po te vabbè ti ho risposto ragazzi lasciate like commentate iscrivetevi mi raccomando iscrivetevi anche al canale del di andrea e degli altri ragazzi che metterò in descrizione alla prossima ciao e sempre forza inter mi raccomando